Appena arrivati a Firenze, in questa terra ottima, dove suoneremo l'Han Office stasera. C'è un mezzo di locomozione alternativa. Bellissimo. È rosso. Io ho una sola cosa da dirti, una, non te ne dirò tanto, ne dirò nulla. Sì, ciao. Questa sera siamo fortunati ad avere una band Noi... Oh... Oh no. That's ver... Che... Passata, passata, passata... 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 Passata. Passata... 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 è molto è molto curato sono qua guarda che c'è i giorni per arrivare a quel punto prima si 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 buona partita guarda guarda che c'è non si capisce niente un piccolo insetto un piccolo insetto un piccolo insetto un piccolo insetto ma questo è veramente è un altro livello ma si può andare avanti così si si può andare avanti così arrivati a madrid arrivati a madrid cosa dici riguardo a madrid? sto tentando andare addosso alla gente beh, credo che a madrid si può passare così no, non si può passare così non si può passare così non si può passare così con le poliziette che si può passare così che ci si può passare così ma che ci si può passare così ma che ci si può passare ma che ci si può passare un po' di informazione che ci si può passare come a fare a fare un'imperazione io sono Gimmi Joe Jackson e io sono in Madrid, spain con Luca è un musicista e gli italiani che si può passare che? le conoscere che incrola e gli ultimi che? 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 Grazie.